Siamo qui con Nerea Costanzo Serratto. Nerea, che giudizio dai sulla partita? Penso che abbiamo iniziato bene. Abbiamo spinto quando dovevamo spingere i primi dieci minuti. Dopo abbiamo avuto un calo di concentrazione, abbiamo iniziato a forzare delle azioni che non erano necessarie, ma alla fine si è vinto, che era quello che volevamo e lo più importante. Questi sono stati i primi giorni qua. Come hai trovato la squadra? Come ti sei trovata nella città? È ancora troppo presto per me per giudicare qualsiasi cosa. Ho fatto due, tre allenamenti con le ragazze e ancora mi devo inserire nel gioco. Ma il gruppo c'è sempre bene, le conoscevo già perché conosco a Romina, abbiamo giocato tre anni insieme, quindi diciamo che nell'aspetto gruppale non penso che ci sarà nessun problema. Un saluto e buona fiesta a tutta la mia famiglia dell'Argentina.